Michele Gubitosa è entrato ufficialmente nei quadri dirigenziali del Lions Mons Militum, formazione militante nel girone D di eccellenza. La compagine di Monte Miletto, guidata da Franco Fabricatore, ha un nuovo socio, si tratta dell'imprenditore che nel recente passato è stato nei quadri dell'US Avellino. Un arrivo importante per i gialloverdi che stanno provando a costruire un progetto duraturo che nel tempo li possa portare alla conquista di un posto nell'elite del calcio dilettantistico. Il padron fabbricatore ha consegnato a Gubitosa una maglia con il numero 10. Il Lions sta cercando di superare il turno del minigirone per approdare in Serie D. Di sicuro l'arrivo dell'esponente dei 5 Stelle darà ulteriore linfa alle casse societarie per un progetto sempre più ambizioso e vincente. Domenica per il Lions sfida il città di Avellino, una gara interna alfina dal sapore particolare, visto che sull'altra sponda ci sarà il pitone Raffaele Biancolino. Questo centro avanti che guida i biancoverdi ha condiviso proprio l'esperienza all'US Avellino con Gubitosa.